Siamo in metà campo della Roma, lanci in avanti per Tiri Bocchi, lo ferma Mexes in un primo momento, poi ancora il tocco centrale, preda questa volta di Brighi, che avanzano alla piede, c'è la possibilità di un contropiede, il tocco di Brighi, la palla ancora per il capitano, ancora tolte, tolte, per l'aletto, per l'aletto, terzo gol del capitano, terzo gol del capitano, 3-0 per la Roma, 3-0 per la Roma sull'uscita del portiere Benussi, il cucchiaio da parte del capitano, non da scampo al portiere del Lecce, 3-0 per la Roma, è al terzo gol il gol del capitano, ed è il capitano che segna il suo ottavo gol al Lecce, otto volte è andato in porta il capitano con Lecce, tre volte qui nello stadio di Via del Mare, questa è la prima volta in cui segna però a sua azione, gli altri due gol li aveva segnati su calcio di rigore, questa volta invece è andato in gol su azione, Dio che benedica, capitano mio Dio che benedica, ancora un gol dei suoi, a pallonetto, ed è il terzo gol.